Siamo arrivati alla quarta edizione del concorso internazionale del clarinetto, organizzato, voluto fortemente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Quattro anni fa era un esperimento, oggi possiamo dire che è una realtà. Anche la partecipazione importante di 25 concorrenti, di giovani che parteciperanno a questo concorso, giovani che provengono non soltanto dal continente Europa ma dal continente anche asiatico, i ragazzi che parteciperanno a questo concorso dovranno sostenere delle prove molto complesse, molto importanti. Un'altra cosa importante che va sottolineata è il valore della giuria, anche qui ci sono dei professionisti a livello internazionale che danno valore appunto a questo nostro concorso. Un evento che pone la nostra città al centro di una iniziativa dal respiro internazionale per crescere da un punto di vista professionale. L'amministrazione Sir Filippi è ben contenta di collaborare con questo evento, è un evento che dà sicuramente lustro alla nostra città perché vengono a Fano dei giovani talentuosi, quindi c'è un doppio aspetto, c'è la risonanza mediatica a livello internazionale e c'è anche il fatto che con una manifestazione, con un concorso di questo tipo, si aiutano e si sostengono giovani di talento, augurandoci che possano avere una grande fortuna nel corso della loro vita. Nel concorso di Fano si parla un po' ovunque, sia in Giappone, sia in Cina, sia in America, e questo è una grande cosa, era la mia grande aspirazione quando l'ho pensata questa cosa, di far diventare Fano dal punto di vista culturale conosciuta in tutto il mondo. Siamo giunti al quarto anno, abbiamo 25 iscritti dall'Italia e praticamente da tutto il mondo, perché abbiamo persino tre cinesi. Siamo molto contenti di questa cosa, perché vuol dire che il concorso cresce, che il concorso è apprezzato nel mondo. Faremo le selezioni adesso il 20, facciamo le selezioni dei 25 ragazzi, poi sceglieremo chi va avanti, massimo 15 comunque le manderemo avanti, sabato li riascolteremo e decideremo i tre finalisti. Domenica mattina i tre finalisti li riascoltiamo e decideremo chi sarà il primo, secondo e il terzo. Tutti i ragazzi saranno accompagnati dal pianista della Scala di Milano, Takahiro. In giuria ci sarà il primo clarinetto della Scala di Milano, Fabrizio Meloni, il primo clarinetto dell'Orchestra della RAI, Enrico Maria Baroni, il primo clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli, Luca Sartori, poi ci sarà Giuliano Giuliani, che oggi è in pensione, mi è stato 40 anni, il corno inglese del Teatro Comunale di Bologna, e poi ci sono io che faccio da coordinatore di tutto, non solo presidente di giuria, ma di tutto.